bene io non visto che abbiamo già fatto tardi non voglio rubare molto tempo consentitemi soltanto di ringraziare anche questa sera il nostro ospite relatore Vincenzo Di Maria che ha accettato il nostro invito che ci propone un tema che per la verità ci riguarda tutti sicuramente avrebbe riguardato molto i giovani ma forse non siamo riusciti a contattarli adeguatamente a sollecitarli nella giusta maniera però è bello comunque è bello comunque aprire la discussione su questi temi che diciamo sono abbastanza nuovi anche per i nostri venerdì insieme grazie anche a Salvo Miciche che ha accettato di condurre l'incontro di oggi di moderare il nostro incontro introdurre il tema della serata che dire sicuramente sarà molto stimolante questo incontro si parlerà dell'organizzazione del lavoro con argomenti decisamente non consueti ecco almeno per il nostro modo di intendere tradizionale di intendere il lavoro ma si parlerà anche correggimi se sbaglio Vincenzo di progettazione partecipata e questo è un tema che anche per chi ha seguito e segue oltre agli incontri del venerdì insieme il lavoro del laboratorio prima di urbanistica partecipata e poi dell'associazione insieme in città che abbiamo costituito insieme è sicuramente un tema sensibile molto importante che riguarda in maniera molto specifica il nostro campo di impegno per la costruzione del senso della comunità di appartenenza alla comunità cittadina di Ragusa bene la parola a voi sì io vi ringrazio dell'attenzione dopo l'incontro di ieri che è stato dedicato alla sharing economy che poi volendo è anche un tema parallelo a quello di cui parleremo noi questa sera e in cui si è già accennato a forme di condivisione di scambio nell'economia oggi noi tratteremo il co-working un nuovo modo di lavorare in collaborazione o in team stasera ci perdonerete ma useremo alcune paroline inglesi che però prontamente saranno spiegate italianizzate potendo fare purtroppo nelle cose che nascono ruotano attorno all'informatica l'inglese è la lingua l'unica lingua quindi tutte le cose vengono già pensate in questo modo ma poi avremo modo di chiarirle quindi dopo quello che si è detto ieri il nostro percorso continua con una riflessione sulle nuove modalità di collaborazione di progettazione progettazione e collaborazione non solo quindi nei beni e nei servizi delle strutture sociali di aspetti apparentemente marginali però sempre importanti che le nuove tecnologie e le modalità di comunicazione ci offrono ci si chiede in breve quali prospettive e quali innovazioni ci attendono in futuro quali problematiche e quali vantaggi e poi ci si dice e se il futuro fosse già qui oggi adesso e se noi non ce ne fossimo neanche accorti ma allora che cos'è esattamente il co-working? possiamo definirlo in prima istanza uno stile lavorativo uno stile che coinvolge la condivisione di un ambiente di lavoro spesso ma non sempre un ufficio mantenendo un'attività indipendente o un lavoro da svolgere in team in gruppo probabilmente anche da luoghi differenti a differenza però del tipico ambiente di lavoro d'ufficio coloro che fanno del co-working non sono in genere impiegati della stessa organizzazione o associazione o se lo sono hanno esperienze e formazioni differenti in genere il team fa riferimento a un leader a un coach coach vuol dire anche allenatore in inglese ma questa figura può anche mancare manca se i partecipanti al team però sanno e possono darsi il cambio se vogliamo per quanto riguarda la gestione logistica del lavoro stesso questa forma di lavoro attrae tipicamente dei professionisti che lavorano a casa liberi professionisti o persone che viaggiano frequentemente e finiscono per lavorare in un relativo isolamento ora l'attività di co-working consiste nel raduno sociale di un gruppo di persone che pur lavorando in modo indipendente condividono dei valori e sono interessati alla sinergia che può avvenire lavorando a contatto con persone di talento persone che hanno qualcosa da dire il co-working offre una soluzione al problema dell'isolamento di cui parliamo quel problema di isolamento che i freelancer sperimentavano lavorando in casa freelancer 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 vuol dire vabbè viene dal mondo del giornalismo e ora lo dirò più in là nel giornalismo cosa vuol dire un freelancer cioè praticamente io lo traduco sempre cane sciolto ecco poi vi dico anche perché non è letterale ma ma è qualcosa di vero nel giornalismo il cane sciolto è molto noto i freelancer sperimentavano lavorando a casa mentre allo stesso tempo permette loro di sfuggire anche alle distrazioni dell'ambiente domestico allora il più delle volte il co-working è indirizzato verso questi freelance verso questi professionisti liberi diciamo che spesso affiancano tale attività con un altro lavoro per venire incontro a tali utilizzatori gli orari sono di solito anch'essi molto liberi il più delle volte sono formule che vanno 24 ore su 24 7 giorni su 7 ma il che non vuol dire che si lavora 24 ore al giorno cioè che in quell'arco di tempo si può scegliere il tempo in cui lavorare il tempo da dedicare a questo tipo di lavoro con modalità di accesso di vario tipo soprattutto modalità elettroniche elettroniche vuol dire con l'uso di computer o sistemi informatici il co-working viene comunque spesso confuso con altre modalità di lavoro e anche dei precedenti come per esempio gli acceleratori di affari gli incubatori di impresa business center o una suite per dirigenti che sono spazi che non sempre si adattano però al modello del co-working perché spesso manca loro l'aspetto del processo sociale un processo collaborativo informale con pratiche di gestione più vicine a quelle di una cooperativa correggimi se sbaglio che io vado anche a braccio qua tra cui la focalizzazione della comunità piuttosto che sul profitto in genere questo sembra una cosa strana un po' si è accennato nell'incontro di ieri perché focalizzarsi non sul profitto ma sulla comunità o si sono fatti secoli di lotte politiche su questo tema ma l'economia attuale si sta indirizzando verso forme nuove anche di condivisione o in cui questi concetti vengono ridiscussi i confini sono comunque spesso labili fra questa forma diciamo così cooperativa e il co-working vero e proprio soprattutto oggi che viviamo come ha scritto Umberto Eco in una società liquida in una società in cui non sappiamo bene da dove partiamo e dove andiamo a finire specialmente parlando di fenomeni socio-informatici in cui i vecchi modelli lavorativi entrano in crisi e subentrano nuovi modelli basati su community su comunità di persone su gruppi che hanno interessi comuni e a volte sono anche diffuse in varie realizzazioni pratiche comunque il co-working non riguarda solo lo spazio fisico soprattutto riguarda l'istituzione di una appunto comunità di co-working anche perché non avrebbe senso parlare di co-working co-insieme senza un gruppo che si riconosce in questo lavoro comunità i vantaggi del co-working allora quali possono essere? possono essere vissuti anche al di fuori degli spazi del co-working stesso tuttavia alcuni spazi del co-working non costruiscono una vera comunità ma costituiscono piuttosto una parte di una comunità che già è esistente combinando la loro apertura con un evento che però attiri il loro gruppo di riferimento ora in breve tutto questo è visto in una prospettiva non solo social ma soprattutto glocal una parola di cui spesso si sente dire che vuol dire locale e globale ora a volte si sente dire abbiamo un autore locale per esempio scrive dei libri nel suo territorio abbiamo un autore che scrive dei libri per tutto il mondo nell'era informatica questa distinzione è praticamente inesistente perché con l'era di internet tutto è locale e a contempo tutto è globale e ciò che è globale è locale perché può interessare ogni luogo cioè una cosa che nasce e sono queste le nostre reciproche esperienze di Vincenzo e mia che nasce a Milano o nasce a Ragusa o nasce a Scicli o nasce a New York alla fine può avere lo stesso successo o non avere successo dipende da come viene fatta quindi questa prospettiva glocal vuole dire proprio questo che ogni cosa è globale e locale bisogna vedere con quale con quali persone con quale idee soprattutto vengono sviluppate internet è appunto la piattaforma che ha consentito tutto questo in modo naturale e semplice ora prima di introdurre il nostro relatore di oggi io vorrei parlarvi brevemente anche di due campi in cui ho prestato la mia opera in questa prospettiva uno riguarda una cosa che possiamo definire come l'antenato del co-working perché vi parlerò di qualcosa che riguarda gli anni 90 voi mi direte l'altro ieri sì ma informaticamente voi sapete che parlando di informatica dieci anni sono un'era geologica quindi se nel secondo caso che vi narrerò sono determinanti i social network nel primo che io ho definito più antico se come vogliamo dire una forma collaborativa antenata del co-working erano determinanti le email e i forum e i forum erano la prima forma diciamo così di aggregazione di community da cui poi hanno avuto origine gli attuali social network che hanno ampliato l'idea che era già in nuce del co-working come lavoro in team in gruppo lavoro negli stessi spazi con diverse competenze e concetti collegati quindi questa prima esperienza riguarda la produzione di e-book e-book come sapete sono i libri elettronici come vengono definiti cioè i libri che si leggono nei computer o nei palvari eccetera e in qualche modo è un'esperienza anti-litteram di co-working negli anni 90 appunto dall'esperienza del newton che era detto anche un mattoncino che era un device portatile allora abbastanza grande ma era ritenuto piccolo perché era molto più piccolo dei computer che erano prima grandi quanto una casa e poi abbastanza grandi da non andare sopra un tavolo il newton era un device portatile creato da steve jobs e steve wozniak che poi sono gli inventori gli ideatori dell'apple sono stati sviluppati i vari palmari come si chiamavano che sono un po' gli attenati degli attuali smartphone dei tablet degli ipad degli iphone che abbiamo oggi essendo questi dei veri e propri computer tascabili meglio ancora da borsa perché grandicelli erano certo che la tasca la sfondavano proprio per dire però erano sempre piccoli rispetto al grosso computer vennero sviluppandosi via via delle esigenze quelle di dotarle non solo di un software ma anche di database di base di dati informazioni e anche a proposito i libri in formato elettronico lì nacque l'idea di ebook e così fu così che allora alcuni di noi che scrivevano nelle principali riviste dedicate ai computers soprattutto i freelance appunto cioè eravamo noi giornalisti o editore o operatore dell'editoria liberi che collaboravamo con le riviste ecco perché freelance io l'ho definito il cane sciolto ecco che abbaiavamo spontaneamente alcuni di noi si riunirono in team decentrati da tutta Italia per creare dei libri dei veri e propri libri in vari formati alcuni esistono di questi formati e esistono tuttora abbiamo creato database traduzioni le relative correzioni di bozze il lavoro che si faceva editorialmente con la carta con i libri con i piombini della tipografia ora si faceva con altri mezzi che erano appunto i palmari libri importanti come ad esempio la Bibbia di Gerusalemme mi sono proprio accorto in questi giorni che serenamente cercando il mio nome la Bibbia di Gerusalemme esce fuori un libro ma non è che io abbia scritto la Bibbia ovviamente è perché io mi sono occupato di quel progetto e ancora dopo dopo vent'anni e passa c'è il mio nome accanto a quel progetto la Bibbia di Gerusalemme l'abbiamo curata io e un gruppo di circa 20 informatici di tutta Italia trasformandola poi in ebook per poterla leggere e distribuire gratuitamente ecco l'idea dello sharing di cui si parlava su tutti i palmari computer di allora allora si era per esempio Palmo S Psyon e pochissimi altri erano questi palmari non c'erano ancora gli iPhone e non c'erano ancora gli iPad districandosi tra una pletora di formati e standard e questo è stato sempre il problema degli informatici cioè ridurre a pochi questi standard perché ognuno nasce ogni azienda informatica se ne inventa uno alla fine abbiamo una pletora di formati e dobbiamo poi inventare i software perché i formati si parlino tra di loro no Vincenzo tu è la stessa esperienza e quindi bisognava trovare degli algoritmi di traduzione reciproca però non bastava perché per esempio il linguaggio il linguaggio si esatto perché nel caso della Bibbia c'era chi si doveva occupare di scansioni e allora gli scanner i programmi di OCR di riconoscimento dei caratteri di allora non erano perfetti come quelli attuali e quindi chi doveva correggere poi i refusi e gli errori di queste scansioni maggiormente avevamo un problema di accentate perché questi programmi venivano fatti in America dove le accentate non esistono non vengono mai usate quindi noi avevamo tutte quelle acute gravi A eccetera e questo problema o le C che venivano scambiate però perché magari era scritta male e allora il programma capiva che era una chiusa invece che aperta eccetera si doveva poi sistemare tutto e tradurre informaticamente parlando questi formati negli ebook che allora richiedevano anche una formattazione simile a quella dei libri non solo i grassetti i corsivi l'impaginazione le note insomma come vi rendete conto era un lavoraccio un grande lavoraccio non si poteva fare questo da soli non si poteva neanche fare senza un'idea in breve o in nuce di co-working di lavoro insieme si lavorava a volte da casa ma in continuo scambio di opinione via email o forum erano gli unici mezzi che avevamo allora e vi posso assicurare che negli anni 90 le connessioni come dicevamo prima internet costavano veramente care adesso ce le abbiamo regalate per fortuna a volte negli stessi ambienti in Svezia è un diritto umano la connessione wireless non si paga non si paga da noi adesso ce la regalano con la connessione telefonica ma ai nostri tempi noi pagavamo il telefono e internet a parte ma comunque concludendo questo che era sempre un modo collaborativo ma indipendente allo stesso tempo in questo caso il team non aveva un leader ma era come se lo avesse perché il leader era l'idea comune da realizzare che guidava tutto e tutti ecco un'esperienza per noi esaltante come si dice prendevamo poco ma eravamo molto contenti di quello che facevamo perché a volte essere ben pagati per un progetto del genere non è tutto vi rendete conto noi allora molto più giovani di ora quale soddisfazione potevamo avere a dire che noi avevamo portato in ebook la Bibbia di Gerusalemme immaginate quanto lavoraccio c'era in quelle migliaia di pagine con tutte le note e tutto il resto e poi avere da questo un imprimator anche delle autorità ecclesiastiche per poterla pubblicare questo è stato reso possibile anche dall'amicizia dalla collaborazione che in gran parte dura tuttora fra un gruppo di persone di Milano di Roma di Genova di Ragusa allora per me Scicli che è la nostra città comune convincente la nostra città di origine anche se io sono oramai ragusano come voi che pur partendo da vari lavori e esperienze partecipavano a questo comune progetto bene la seconda esperienza invece più recente riguarda un team di matematici che affianca la HP la Hewlett Packard che è una delle più grandi case produttrici di computer e soprattutto di calcolatori e calcolatrici tascabili nello sviluppo di software e firmware il software sapete cos'è il firmware vi dico in breve che è un software che serve a fare funzionare i computer e le calcolatrici praticamente è il software che sta nel cervello di queste macchine per alcune calcolatrici scientifiche usate soprattutto nella scuola superiore e nell'università di alcuni paesi del mondo è un team di cui io mi onoro di fare parte e che in particolare riguardano le soluzioni software di una calcolatrice scientifica grafica che è la HP Prime che è una delle più avanzate del settore soprattutto in ambienti accademici ancora le calcolatrici scientifiche sembrerebbe strano le calcolatrici grafiche sono importanti altrettanto quanto i computer perché mentre noi possiamo pensare di usare un computer perché colloquiamo perché ci colloquiamo ai social network ovviamente un ingegnere o un matematico la prima cosa che pensano non è il computer è la calcolatrice perché devono risolvere dei problemi che riguardano la matematica che riguardano l'analisi che riguardano la statistica eccetera quindi sono importanti e sono evolute tanto da avere software oramai espandibili programmabili grafici addirittura col touchscreen quelle che sviluppiamo noi per cui uno disegna una funzione a caso e chiede al computer di trasformarla che ne so in una parabola o in un'iperbole o quello che può essere ci occupiamo appunto di creare queste soluzioni per l'utente in vari campi della matematica la statistica la finanza soprattutto partendo da esperienze e competenze di vari paesi del mondo io personalmente mi sono occupato di programmi di questo genere di matematica finanziaria di statistica e perfino di astronomia in una calcolatrice tascabile non in un computer in cui è molto facile anche in questo caso possiamo allora parlare di di co-working in quanto si trovano a collaborare varie professionalità allora andiamo dagli insegnanti di matematica agli ingegneri agli informatici perfino a semplici appassionati che operano spesso anche questi da casa o in uno stesso ambiente e alcune volte appunto si ritrovano in momenti di confronto comunitario in dei meeting in cui si stabilisce quali sono i criteri che cosa va sviluppato e quali sono le cose che il pubblico degli utenti delle macchine ci chiedono operando non quindi in questo caso come dipendenti dell'HPI ma come ancora una volta freelance collaboratori di un progetto che in questo caso però ha materialmente un leader che però ecco la novità ecco la differenza non è un capo ufficio non è uno che da cui si deve dipendere o che si deve temere è semplicemente un matematico informatico nel nostro caso stranamente o curiosamente o anche non curiosamente un americano perché tutto nasce lì ovviamente che si occupa di coordinare il lavoro dare degli input indicare dei percorsi percorsi che a volte nascono da proposte però dai membri stessi della community e vengono portate a modello della strada da seguire quindi questo leader non impone le sue scelte prende le nostre idee le focalizza toglie quelle che vanno che non vanno bene per il progetto e ci indica di che cosa dobbiamo occuparci e in questo caso vengono usati il forum anche i social network per comunicare quindi i social network di oggi ma soprattutto anche il vecchio forum il forum è una community che poi è l'antenato del social network ancora molto valido per i professionisti bene infine vi potrei parlare di altro di cui ci occupiamo quotidianamente per esempio io e Pippo Di Noto cito a caso uno che vedo di fronte a me che è la comunicazione e l'informazione solo per notarvi brevemente come abbiamo visto cambiare nei decenni questa figura di freelance ecco questa parola che abbiamo usato il freelance allora chi è? è chi scrive o fotografa per un giornale ma praticamente non fa parte integrante di una redazione fissa ora se inizialmente il freelance era chi operava con una certa indipendenza però riceveva ordini di lavoro dal direttore del giornale o dal redattore sul tema da trattare quindi non aveva molta indipendenza era indipendente nel luogo di lavoro ma non era indipendente sul come lavorare oggi è invece anche chi lavora perfino in uno stesso spazio della redazione propone temi foto servizi o altro che la redazione valuta poi per la pubblicazione foto articoli scritti che vengono condivisi nei social network email con scambi diretti ecco l'avvento dei giornali online sta cambiando rivoluzionando il mondo della stampa il giornalismo sta passando tutto ai giornali online proprio anche per queste forme nuove di collaborazione e di lavoro che si stanno sviluppando e la stampa su carta del giornalismo sta per finire diciamo che è in coma se non è ancora morta purtroppo per fortuna non sta a me stabilirlo visto che io mi occupo e mi trovo in genere anche citato in entrambi i tipi di giornali lo strapotere del direttore responsabile comunque ora è contrastato da un'idea di collaborazione e parità che viene da quelle che potremmo definire le redazioni allargate spazi di co-working community in cui anche il lettore può contribuire tramite i social gli spazi di aggregazione e molto altro molto spesso i giornali online hanno i commenti oppure hanno le lettere come erano le lettere al direttore di una volta ma molto più frequenti perché sono i lettori stessi che fanno il giornale io non cito il nome ma un giornale siracusano che credo che entrambi noi leggiamo ha anche un'app dedicata in cui i lettori stessi fotografano quello che accade nel momento in cui accade e poi documentano e diventa già l'articolo sono i lettori stessi che lo fanno a questo punto io ecco non vorrei aggiungere altro se non dirvi qualcosa sul nostro ospite su Vincenzo Di Maria che è un service designer si definisce si può definire un agente di cambiamento un imprenditore con esperienza internazionale specializzato nella creazione e nella gestione di reti di persone processi di sviluppo sostenibile e innovazione sociale Vincenzo Di Maria è laureato in disegno industriale presso l'ISIA di Roma con un master alla Central Saint Martins Università delle Arti di Londra e si occupa oggi di progettazione partecipata misurazione dell'impatto sociale formazione all'imprenditorialità e processi di innovazione negli enti pubblici e nel terzo settore Vincenzo ha maturato un'esperienza pratica nell'insegnamento nei processi di collaborazione facilitazione e mediazione collabora con il Politecnico di Milano l'Istituto Europeo di Design di Madrid la Scuola di Business Insec di Parigi Contamination Lab all'Università di Catania e altri istituti di formazione è presidente di Architekta Società Italiana per l'Architettura dell'Informazione cofondatore di Common Ground SRL che è un'organizzazione che porta il design la progettazione incentrata sull'utente in ambiti di innovazione sociale offrendo servizi di progettazione e condividendo metodi progettuali innovando e trasformando servizi di esperienze di aziende organizzazioni in diversi settori proveniente da Scigli abita e lavora a Ortigia presso Impact Hub di Siracusa che è uno spazio di co-working tanto per cambiare fulcro di una rete glocal di imprenditori sociali bene a me non resta altro per ora che passargli la parola e poi magari dialogheremo un po' su quello che lui vorrà proporci grazie dell'attenzione discursus da cui io pesco subito Umberto Eco è la società liquida fluida ecco scendiamo tutti i microfoni sembriamo una conferenza stampa di quelle serissime perché la società fluida la società liquida di Umberto Eco perché come un cubetto di ghiaccio diventa acqua e attua questo processo lento a secondo della temperatura dell'ambiente circostante di trasformazione da uno stato all'altro la nostra società è sempre cambiata in realtà sempre passata di generazione in generazione in questi anni in cui il digitale l'informatica hanno stravolto e hanno accelerato questo processo di trasformazione da cubetto di ghiaccio al liquido la nostra società si è dovuta reinventare anche nelle sue forme più consolidate ovvero tipo il lavoro il lavoro è cambiato anche il lavoro è diventato liquido è diventato flessibile è diventato part time è diventato a distanza è diventato remoto è diventato intangibile si è smaterializzato ma fondamentalmente lavorare che vuol dire? lavorare anche proprio le lettere stesse si potrebbe fare l'anagramma lavorare vuol dire creare valore no? se uno crea valore sta lavorando anche se lo fa nel volontariato in realtà no? lavorare vuol dire creare valore per gli altri per le persone per se stessi quello vuol dire se poi si è retribuito meno è quello che hanno fatto un giochetto durante la rivoluzione industriale inglese hanno cambiato la parolina inglese work lavoro con la parolina job impiego quando oggi parliamo di disoccupazione diciamo che in sicilia c'è il 50% di disoccupazione non è vero che non c'è lavoro c'è un sacco di lavoro da fare in sicilia non c'è impiego che vuol dire lavoro in cambio di retribuzione monetaria in euro insomma questo liquefarsi anche del concetto di lavoro e creare valore fa parte di quello di cui mi occupo io ovvero fare innovazione e fare progettazione progettare vuol dire gettare oltre progettare gettare oltre lo sguardo per riuscire a dare forma al futuro ho studiato disegno industriale che vuol dire dare forma agli oggetti oggi mi occupo di dare forma a cose meno tangibili come i servizi come le relazioni come le interazioni e la sfida di oggi salvo correggimi credo sia importante soppesare le parole non solo perché molti di questi concetti sono stati teorizzati e codificati in inglese o in culture diverse da quella italiana mediterranea nostra ma proprio cioè tradurre l'idea di co-working che non è solo il lavorare insieme è proprio uno stile di vita un modo di lavorare un modo di lavorare e creare valore in modo diverso per fare questo dato che io mi occupo anche di design di progettazione ho preparato una serie di slide che non so se riusciamo a spegnere la luce così vediamo ci spostiamo di lato e mi alzo direttamente allora mi chiamo incenso di maria la presentazione salvo già la fatta quindi non mi ripeto ho un'azienda che si chiama common ground anche qui parolaccia inglese che vuol dire terreno in comune i common ground i cosiddetti common in inghilterra erano gli spazi il giardino comune dato ai cittadini che magari non avevano un giardino proprio a casa ma avevano questi spazi condivisi la mia azienda si occupa appunto di questo di portare su un terreno comune discipline che possono essere anche diverse come progettazione e arte come scienza e informatica come pubblica amministrazione e innovazione tecnologica quindi concetti molto difficili a volte da spiegare la mia sfida qui sarà non tanto quello di rendere semplici concetti complessi perché voi siete persone intelligenti e quindi tutte capaci di riuscire a processare processi complessi ma renderle chiare nel linguaggio proverò proverò con il linguaggio a trasformare alcune di queste parole il più chiare possibile così anche se sono concetti complessi siamo tutti a nostro agio con quello di cui stiamo parlando quindi questo è un po' quello che è stato i miei ultimi vent'anni raccontati in una slide io sono nato a Scicli però ho voluto studiare a Roma perché avevo bisogno era una persona curiosa la curiosità mi ha portato a trovare una materia che era quella del design della progettazione industriale che in Sicilia all'epoca non c'era nessuna università quindi per esigenza un po' per esigenza un po' per curiosità mi spostai a Roma dove ho imparato che progettare il design quando dicevi ai miei amici che fai faccio disegno industriale ah ma quindi disegni leviti bulloni no ho detto no disegno industriale ah ma quindi le Ferrari ho detto guarda tutto ciò che è in mezzo dal cucchiaino allo shuttle che è andato tutto ciò è progettare cioè anche il bicchiere di plastica dal quale stavo bevendo prima così come questo computer o lo smartphone che è in task sono frutto dell'atto progettuale atto progettuale che è anche un atto politico se vogliamo perché si fanno tutta una serie di decisioni etiche su che materiale che processi quando facciamo l'obsolescenza programmata ci sono una serie di irresponsabilità dopo questi primi tre anni a Roma dove mi hanno spiegato che una sedia non è un oggetto non è un un mobile non è un elemento d'arredo ma è un dispositivo antigravitazionale che impedisce scusate il francesismo il nostro sedere di cascare a terra quindi la sedia è un dispositivo antigravitazionale e quando il mio professore mi spiegò questo quando noi progettiamo una sedia non stiamo progettando la sedia stiamo progettando l'interazione di una persona con quella sedia cioè se è una poltrona per una sala conferenza e noi progettiamo una serie di poltrone che siano comode eccetera eccetera se stiamo progettando una seduta per una chiesa o per un cocktail bar o per una fermata dell'autobus dovremmo tenere in conto sia il contesto sia l'utente l'utente nel senso la persona quanti di voi durante la vostra vita siete saliti con i piedi su una sede per cambiare una lampadina o per raggiungere per prendere un libro in alto quello è un uso improprio della sedia che però va bene perché l'utente ha sempre ragione in questo senso gravitazionale comunque sì è un dispositivo ma la sedia è tanto un dispositivo antigravitazionale quanto una balla di fieno quanto una panchina nel parco quanto un'altalena quanto una sedia a rotelle per una persona disabile questi sono dispositivi antigravitazionali che rispondono a esigenze complesse di diversi utenti perché una sedia per un bambino avrà una certa dimensione un certo colore una certa forma certi materiali una sedia per una persona anziana che ha difficoltà ad alzarsi avrà tutte altre caratteristiche quindi progettare sedie vuol dire progettare comportamenti nel momento in cui ho realizzato che il mio lavoro non era quello di progettare oggetti ma progettare comportamenti o influenzare suggerire comportamenti di un certo tipo ho detto ma questa è una cosa bella e potente il processo di progettazione ci porta a immaginare veramente il futuro è come progettiamo un quartiere è come progettiamo una città è come progettiamo non l'automobile ma la mobilità la capacità di spostarsi da un punto ad un altro e per questo sono andato in Inghilterra dopo tre anni a fare un periodo di scambio si chiama Erasmus di sei mesi dove mi hanno detto che l'approccio inglese è diverso io quando ho studiato design in Italia mi hanno fatto studiare semiotica psicologia della percezione l'importanza del segno l'importanza e il peso la filosofia della storia progettuale della nostra storia dell'arte eccetera eccetera arrivati in Inghilterra sono molto più pragmatici vanno dritto al sodo fanno innovazione in modo continuato e soprattutto non badano tanto all'autorealità cioè in Italia noi vogliamo la firma del designer no? Giugiaro che si è fatto la... in Inghilterra non importa niente a nessuno tant'è vero se io vi dico conoscete Jonathan Hive chi è? è designer inglese che in America è capo del dipartimento del design della Apple questa che fanno gli iPhone gli iPod gli iPad i computer nessuno lo conosce ma tutti conoscono il suo lavoro e in Inghilterra importa più ciò che sai fare che ciò chi sei e questo per un italiano è una novità è una cosa un po' strana è una cosa un po' nuova no? qua la domanda quando ti incontrano in giro per Ragusa per Cic ricutirisci di chi sei non tanto che sai fare non importa a nessuno quello che sai fare là ci deve arrivare in seconda battuta dopo un'esperienza inglese ho capito che mescolare queste che erano le conoscenze italiane l'esperienza italiana con l'esperienza estera poteva essere utile poteva essere una carta vincente perché dall'Italia mi porto dentro l'approccio filosofico e impegnato e profondo dall'Inghilterra imparo degli strumenti e dei modelli nuovi che mi permettono di vivere e innovare nel contesto commerciale del lavoro che cambia di oggi ho iniziato ho fatto un master in Inghilterra ho lavorato con diverse agenzie di ricerca e innovazione però dopo sei anni a Londra dove aveva iniziato un'azienda che appunto si chiama Common Ground mi ero un po' stancato perché Londra è un po' come una palestra è come stare sei anni a Londra è come stare dieci anni nel resto del mondo che è molto intensa ed è come una vasca grande piena di pesce un acquario gigante dove tu sei il pesciolino piccolo e per quanto vuoi fare la differenza sempre pesciolino piccolo sei nella vasca grande quindi il tuo impatto personale il tuo posizionamento in quel contesto diventa sempre una bella sfida mentre tornare in Sicilia per me è stata una grande sfida in quanto posso essere il pesciolino medio piccolo in una vasca molto più piccola quindi il mio contributo apporto professionale e personale comincia a essere maggiore quindi credo di avere più impatto innovando alla periferia del sistema innovazione operando al sud est della Sicilia che poi è il centro del Mediterraneo io in realtà dico che sono alla periferia del sistema però mi sento al centro dell'ecosistema Mediterraneo che è quello che mi interessa prima di tornare in Sicilia però ho fatto anche due anni a Lisbona dove non solo ho imparato il portoghese ma mi sono confrontato con tutta un'altra serie di progetti come la valutazione di progetti sociali quindi quali sono gli indicatori intangibili per capire che un progetto fatto dall'associazione X dal gruppo di lavoro ha veramente cambiato le cose ha veramente prodotto del cambiamento nella vita delle persone Lisbona mi è servita come percorso di riavvicinamento se non geografico perché giustamente è lontano cioè da partire da Siracusa Roma andare a Londra poi a Lisbona quantomeno culturale è stata una tappa di riavvicinamento culturale perché il Portogallo in realtà ci assomiglia molto allo stile di vita quantomeno e al modo di pensare alla cultura alla lentezza a quello che si dà importanza alla spontaneità alle relazioni cosa che a Londra un po' manca come manca un po' a Milano in queste città dove bisogna correre correre produrre 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 vi parlerò di tre concetti oggi che in un certo senso Salvo ha già spiegato e illustrato e torno un po' a quello che è il titolo allargato di questa presentazione che era qua all'inizio lavorare nell'era della collaborazione il lavoro che cambia nell'era della collaborazione quindi non solo co-working ma anche creatività innovazione nuove relazioni vi parlerò di collaborazione co-working e co-design co-design che vuol dire progettazione partecipata ovvero progettare insieme e qui entriamo nel mondo delle parole complicate dei concetti complicati che però possono essere spiegati in modo semplici io mi occupo di service design che vuol dire progettare i servizi ora tutti di voi tutti noi accediamo servizi tutti i giorni che siano servizi di telecomunicazione che siano servizi di trasporto che sia un conto chi è che ha un conto corrente alla posta qua o in banca tutti abbiamo un conto corrente quello è un servizio è un servizio finanziario che ci permette di gestire il nostro stipendio i nostri soldi alcuni di noi avranno una carta di credito questi servizi una volta erano semplici c'era la banca uno andava in banca ed era uno spazio fisico uno quella è la banca basta il grande salvadenaio dove si mettono i risparmi oggi la banca si è smaterializzata tant'è vero che io ho un conto corrente dove non c'è una banca fisica la mia banca è sul cellulare ho un'app ho un sito web addirittura non ho il libretto degli assegni perché non mi serve e mi sento completamente a mio agio a essere sull'autobus e a fare una transizione e pagare 500 euro d'affitto dal mio cellulare cosa che mia madre si chiuderebbe in casa si metterebbe ad andare al compito perché è una cosa un'operazione finanziaria importante quindi la banca si è trasformata si è smaterializzata e soprattutto si è fatta si è messa a disposizione dell'utente cioè io che devo usare un conto corrente lo uso quando voglio anche a mezzanotte io faccio una transazione bancaria non importa orario non importa se sono in Inghilterra non importa dove sono quindi la banca si è smaterializzata come la banca si è smaterializzata tutta un'altra serie di servizi si stanno smaterializzando o stanno cercando di avere un'anima digitale un albergo non si può smaterializzare perché un letto dove dormire lo dobbiamo avere quindi un servizio di ospitalità per tutti i turisti che arrivano a Siracusa io lo devo offrire per oggi c'è l'albergo diffuso oggi le persone scelgono online non arrivano in città e cercano l'albergo non telefonano prima di arrivare fanno una prenotazione da internet o dal cellulare tutte queste cose si stanno trasformando quindi progettare i servizi oggigiorno diventa importante perché perché è importante perché nel mondo che prima era basato sul sistema ancora è basato sul sistema capitalistico della produzione di massa di oggetti per il consumo di massa quindi è importante comprare consumare possedere gli oggetti oggi siamo in un'economia che è basata su cose intangibili l'informazione la reputazione le relazioni i servizi le esperienze noi paghiamo quando andiamo al ristorante non è che paghiamo per possedere il cibo paghiamo un servizio che è il servizio al ristorante infatti c'è il servizio al tavolo eccetera eccetera noi paghiamo per i servizi e lo facciamo costantemente paghiamo per prendere l'autobus paghiamo per viaggiare in aereo sono tutti servizi che non possediamo perché i servizi non li possiamo possedere ma possiamo avere accesso ai servizi quindi questa grande transizione economica dal possesso delle cose all'accesso ai servizi e alle esperienze è una cosa che mi interessa però non credo che sia difficile da capire forse è interessante vederla da questo punto di vista perché cominciano a cambiare anche alcune dei paradigmi che parlavamo poco prima dell'inizio dell'intervento cioè una volta tanto più possedevi tanto più case terreni cose materiali fisiche possedevi tanto più eri ricco oggi non è più così oggi quanto più condividi e riesci a condividere quanta più informazione riesci a veicolare tante più relazioni e tanto più alte la tua reputazione più ricco sei quindi oggi non sei ricco quando possiedi più cose ma quando condividi più cose e questa cosa è un po' strana perché questa cosa mette in dubbio alcuni dei nostri valori dice aspetta allora che faccio compro casa o affitto o vivo la vita affitto casa e a miei figli invece di dargli la casa gli lascio la possibilità di accedere a una decent abitazione che cosa faccio come investo i miei soldi e quello che possiedo è interessante come dibattito e poi mi occupo di innovazione sociale l'innovazione tecnologica o l'innovazione in campo medico tutti la capiamo no basta se dobbiamo produrre un nuovo motore a scoppio si mette un centro di ricerca e innovazione e producono un nuovo motore se si deve produrre un altro computer allora ci sono quelli nel laboratorio che fanno le cose eccetera eccetera l'innovazione sociale non è un'innovazione intanto non sono i social media l'innovazione sociale cioè l'innovazione sociale è sì fatta insieme quindi ha una valenza sociale ma anche un fine è un obiettivo sociale cioè progettare dei servizi per migliorare l'accoglienza nei centri di prima accoglienza per i migranti quella sarebbe innovazione sociale coinvolgere il terreno per produrre integrazione culturale con i migranti quella è innovazione sociale la differenza tra l'azione sociale e l'innovazione sociale e l'azione sociale per fortuna è portata avanti da tante associazioni che col volontariato con il loro tempo con le loro risorse cercano di fare azione e la stessa differenza c'è da dare un pesce a insegnare a pescare se c'è una persona che ha fame dare un pesce è un atto di carità ognuno di noi lo può fare se poi c'è da creare un centro di prima accoglienza magari un'associazione di volontariato può insegnare a pescare in modo che queste persone possono essere indipendenti ma questa è ancora azione sociale l'innovazione sociale vuol dire ripensare l'industria del pescato in modo che ognuno abbia un pesce quindi vuol dire che ognuno abbia un pesce invece di dare il pesce o invece di insegnare a pescare a dieci persone ripensare l'industria del pescato e garantire un pesce a testa tutti i giorni questo vuol dire dispiego di forza di risorse di capacità professionali intellettuali notevoli e vuol dire trovare dei modelli che possono essere replicati e che si possono sostenere a lungo termine non è solo il semplice atto che va benissimo cioè l'atto sociale anche a livello personale anche il dare il pesce va benissimo però si può fare di più con professionalità e con dei modelli che si possono prendere in prestito anche da quello che è stato il mondo commerciale le grandi aziende hanno sviluppato modelli che spostati nella pubblica amministrazione spostati nel terzo settore possono dare risultati interessanti quindi collaborazione parliamo di collaborazione collaborazione non vuol dire mettere gente insieme improvvisamente sono tutti felici la collaborazione va facilitata se ci sono delle persone che non si sopportano bisogna mediare le relazioni cioè non è solo facciamo insieme l'albero di Natale ok però poi magari c'è un coordinatore no le palline rosse io non mi piacciono la stella la metto io insomma collaborazione è un affare complicato tutti voi fate associazionismo probabilmente quindi comprendete sia i vantaggi le cose belle del collaborare sia le difficoltà le incomprensioni modelli mentali diversi aspettative diverse agende personali diverse quindi collaborare non è sempre facile però collaborare ci porta a un grande vantaggio intanto non abbiamo solo la nostra intelligenza cioè Leonardo era un genio però era lui uno studioso che magari aveva tanti studiosi intorno oggi io vado in università e sto in piedi sulle spalle dei giganti perché leggo i libri di chi ha creato conoscenza prima di me e quindi mi nutro di intelligenza collettiva e se lavoriamo insieme a un progetto se siamo in dieci a lavorare a un progetto abbiamo le intelligenze le esperienze professionali e personali di tutti e le mettiamo in sinergia questo dà vita grazie alle nuove tecnologie dall'essere un piccolo gruppo di lavoro a sapere se io c'è un progetto simile a quello che sto facendo in Sicilia che lo stanno facendo in Brasile io vado su internet e me lo cerco quindi stiamo passando da un'intelligenza collettiva a una condivisione a una cultura della condivisione della conoscenza Wikipedia tutti scrivono gratuitamente quello che sanno sul web ma perché lo fanno? ma che ci torna a loro? che ci guadagnano? ci guadagnano conoscenza quindi tu contribuisci in conoscenza informazione e ci ricavi informazione questo è diventato invece di pagarci in euro ci stiamo pagando in informazione e conoscenza è un metodo di scambio facilitare la collaborazione è una delle cose che mi trovo a fare spesso tant'è vero che alcune aziende che fanno progetti complessi che tipo sono aziende che lavorano con la pubblica amministrazione per digitalizzare la salute quindi c'è un ospedale dobbiamo ristrutturare ripensare un ospedale a quel punto è un progetto complesso perché la sedia la posso progettare da solo per progettare un ospedale devo parlare con i medici devo parlare con i pazienti devo parlare con l'infermiere col parente del paziente con quello che fa le pulizie devo parlare con tante persone perché ci sono talmente tante cose che succedono dentro un ospedale che non è semplice progettare un ospedale e quindi facilitare la cooperazione mediare diventa sempre molto importante e ciò ci porta al co-working che non è come diceva Salvo giustamente solo uno spazio co-working significa lavorare insieme tante volte io dico ma tu che fai? e mi viene difficile dire una cosa sensata perché se dico avvocato se dico dottore se dico architetto i miei genitori sono architetti questa parola è già codificata nella cultura di molte persone quindi ah dici fa lavoro quando dico che fai? se dico faccio il freelancer faccio l'innovatore faccio il designer la gente mi guarda e dice sì ma poi per lavoro che fai? cioè sì ma poi ed è vero tante volte dico faccio il consulente che non è vero nel senso a me piace più progettare lavorare con le aziende alla risoluzione di problemi interni che loro hanno di strategia di comunicazione eccetera però la parola più comunemente dici che fai? il consulente non è vero sul mio bigliettino da visita sul mio sito non troverete mai la parola consulenza però è quello che la gente capisce quindi uno si utilizza il linguaggio che quindi co-working significa lavorare insieme però lavorare insieme non vuol dire per forza collaborare cioè se noi ci mettiamo in una stanza e ognuno si mette lì a lavorare però ognuno fa il suo lavoro e non ci parliamo mai non per forza stiamo collaborando stiamo incidentalmente abitando lo stesso spazio no? ognuno poi si fa lui è giornalista io sono ingegnere lui fa le campagne per l'ambiente quell'altro fa i laboratori con i bambini cioè sì possiamo convivere nello stesso spazio di lavoro dipende poi dallo spazio di lavoro però ognuno fa le proprie cose la vera collaborazione all'interno di un co-working avviene quando la mia intelligenza la mia professionalità è utile alla persona che mi sta accanto e non sto parlando di studi associati di settore tipo allora ci sono più avvocati che si mettono insieme e poi hanno il commercialista se lo portano dentro perché questo fa gioco giustamente a uno studio associato quindi però tutti fanno lo stesso lavoro sto parlando di persone che fanno lavori diversi che occupando lo stesso spazio lavorando all'interno dello stesso spazio si nutrono l'uno della professionalità dell'altro ah tu sei giornalista sai devo fare un comunicato stampa non l'ho mai fatto per il mio evento che invece riguarda tutt'altro riguarda l'impresa però mi serve qualcuno che fa comunicato stampa ma sai qualcuno che fa siti ah sì lui fa siti tu che fai siti mi puoi aiutare a fare una campagna sui social media ok ah ma poi mi serve l'evento perché devo fare lo spazio c'è qualcuno che si occupa di eventi sì un'altra persona allora lì comincia a diventare interessante e sfaccettato tutte le persone di diversa professionalità che lavorano all'interno di uno spazio che condividono conoscenze ed esperienze il co-working non è uno spazio è uno stile lavorativo questa è Wikipedia che ci viene in soccorso e dice proprio che in un certo senso l'avevi già detto tu nella tua prefazione l'attività del co-working è il radulo sociale di un gruppo di persone che stanno ancora lavorando in modo indipendente che però condividono tutta una serie di cose non solo gli spazi ma anche i momenti sociali e incidentalmente collaborano molti di questi lavoratori sono nomadi noi a Impact Hub Siracusa che è il co-working dove lavoro io abbiamo un programma di nomadi digitali chi sono i nomadi digitali i nomadi digitali sono tutti quei tedeschi svedesi norvegesi che durante i periodi invernali si scocciano di stare al freddo dove sono e vengono a Siracusa perché tanto il loro lavoro si fa su internet quindi non importa dove sei a lavorare quindi loro vengono a Siracusa si fanno due mesi a Siracusa dove il clima e lo stile di vita è diverso e vengono a lavorare da noi i nomadi digitali sono anche cioè io prima molte persone quando vedono la prima slide dicono ah ma tu la fuga dei cervelli sei andato via dall'Italia io mi sento un cervello in transito l'Europa è il mio paese e grazie alla mobilità data dai voli a basso costo e dei mezzi informatici che ci permettono di lavorare in ogni dove io mi sento a casa ovunque mi mettete in Europa un po' perché ho imparato due o tre lingue e quindi un po' l'inglese il portoghese lo spagnolo uno si trova ed è semplicemente una cosa alla quale mi sono abituato mi sono abituato ad andare a prendere l'aereo a Catania come come prendere l'autobus per andare a Palermo quindi fondamentalmente non mi fa strano non mi stranisce per niente trovarmi a Londra a Bruxelles o a Catania o a Grigento a fare delle conferenze o dei corsi di formazione perché comunque l'Europa è il mio paese mi sento un nomade digitale in quel senso cioè mi sento che posso lavorare in più posti però ho deciso invece di abitare a Londra di abitare a Siracusa perché che è per scelta personale perché credo che la vita venga prima del lavoro quindi questo è il programma di Digital Nomads in più anni abbiamo avuto persone che sono venute a trovarci una norvegese uno spagnolo oppure storie di persone che erano a Milano che lavoravano in banca nell'assicurazione eccetera e sono venuti a Siracusa per aprire il primo Bike Café che è un bar che promuove la mobilità sostenibile tramite l'affitto e la riparazione di biciclette questo è un bar che esiste davvero a Ortigia si chiama Movimento Centrale i due ragazzi vivevano a Milano e hanno fatto questo sforzo di venire a Siracusa purtroppo come dicevo prima non c'è solo una fusione di elementi c'è molte persone dicono bene ma allora il co-working vuol dire fare innovazione allora vuol dire c'è una confusione di cose più che fusione c'è una confusione tutte queste che sono le modalità di lavoro e Salvo lo diceva all'interno di un co-working si fanno diverse cose si fanno addirittura momenti di incubazione percorsi di accompagnamento a chi ha un'idea che vuole sviluppare un progetto di impresa si fanno diverse cose quindi la gente è un po' confusa ed è normale perché in tutti i periodi di transizione dal cubetto di ghiaccio a società liquida sia il linguaggio sia la cultura che abbiamo queste cose un po' ce le perdiamo e soprattutto il co-working non significa solo creare lo spazio ma vuol dire creare quel senso di comunità di rete di persone di relazioni di progetti che possono stare insieme cioè io non mi porto l'attivista di Greenpeace e quello del petrol chimico e li metto accanto nella stessa scrivania perché perché sarebbe non produttivo per così come non porto insomma cerco di creare un ambiente infatti alcuni co-working tipo sono specializzati se guardate l'incubatore di telecom si specializzano in telecomunicazione tecnologia app e tutte queste cose il co-working dove lavoro io si occupa soprattutto di innovazione impresa nel sociale quindi questa è una linea avrebbero potuto dire noi ci occupiamo di cucina di cose da mangiare invece hanno detto noi ci occupiamo di innovazione sociale infatti e qua lo dice il co-working non riguarda solo lo spazio fisico ma soprattutto l'istituzione della comunità del co-working e alcuni spazi di co-working non costituiscono una comunità ma costituiscono piuttosto l'asset ovvero il luogo d'incontro il momento in cui le persone si incontrano molte persone che erano i cosiddetti freelancer liberi professionisti o cani sciolti lavoravano a casa però vuoi il gatto che ti sta a guardare il bambino con le padelle o il manicomio in casa magari è il pigiama che non ti sei tolto dalle dieci di mattina che sei ancora in pigiama forse è meglio trovare un altro spazio alcune persone hanno cominciato ad andare in luoghi come i cosiddetti caffè in Europa ci sono gli starbucks ci sono questi luoghi che tu vai lì ti prendi un caffè ti prendi una brascina e stai lì mezz'ora e approfitti che c'è la connessione internet rispondi alle mail eccetera eccetera però questo funziona per mezz'ora un'ora due perché puoi stare là tutta la giornata giustamente diventa un po' complicato e per questo nascono gli spazi di co-working che portano il meglio delle comodità che hai a casa e un po' di quell'ambiente informale che troveresti in un caffè e quindi cercano di avere degli spazi collaborativi degli spazi dove mi posso sentire al telefono degli spazi dove posso fare riunioni pareti dove posso attaccare le cose il fenomeno del co-working è un trend in crescita in tutto il mondo non solo in Italia anzi l'Africa questo qua è un dato non aggiornato perché l'Africa sta costituendo tutta una serie di spazi e modalità di co-working e il co-working funziona quando è gestito bene perché una persona che non sa collaborare e si mette in testa voglio aprire invece di aprirmi la palestra invece di aprirmi mi apro un co-working come attività commerciale intendo e però è una persona che non sa lavorare con le persone è un disastro creerà degli spazi brutti con le luci artificiali senza finestre dove non ci sono spazi condivise perché l'unica idea che ha di co-working è affittare le scrivanie non è così affittare il co-working significa creare lo spazio e l'atmosfera giusta per la collaborazione ci sono dieci buoni ragioni che vi leggo velocissime da Avanzi che hanno fatto uno studio sui co-working in Italia Avanzi è un'associazione di promozione sociale che sta a Milano e si occupa di innovazione culturale quindi mappa tutti quelli che sono i trend i cambiamenti di innovazione culturale in Italia e dice il co-working crea nuove opportunità di collaborazione e di business quindi il co-working crea connessioni utili poi dice il co-working concentra in un unico luogo competenze specializzate e complementari il co-working favorisce l'arricchimento e l'aggiornamento professionale perché se io mi perdo l'aggiornamento io non so che la mobilità non so che magari c'è una nuova forma di tecnologia o non so che c'è l'albergo diffuso a Scigli e penso che ci sia solo Airbnb magari qualcuno me lo dice e continua a nutrire il mio spirito e la mia conoscenza il co-working spinge l'innovazione sono come degli alveari di persone che fanno cose diverse in giro per il mondo poi quando si incontrano e ci mangiamo una cosa a pranzo tu mi racconti la tua tu mi racconti la tua e mi racconto la mia che sono appena tornato da Madrid e a quel punto ci sono delle connessioni che altrimenti non sarebbero mai avvenute il co-working migliora la qualità della vita non solo lavorativa quindi diventa uno spazio informale che non è l'ufficio con i cubicoli ma diventa uno spazio anche se ben arredato e ben gestito uno spazio utile è l'ambiente ideale per far nascere e sviluppare una start-up start-up significa un modello che nasce magari sulla base di alcune tecnologie le start-up in inglese sono piccole imprese ad alto potenziale sono piccole imprese quindi non stiamo parlando di grandi aziende che hanno il palazzo ma sono 15 persone 15 impiegati ma anche 3 impiegate a volte che però hanno accesso a un mercato globale perché su internet perché vendono cose su internet e la gente li compra loro servizi il co-working consente ai migliori talenti di rimanere nella propria città cosa non indifferente io sono a Siracusa perché c'era uno spazio di co-working che quando sono arrivato nel 2011 era un progetto in divenire e ho deciso nonostante continuo a lavorare con istituzioni in giro per l'Europa che la Sicilia sarebbe stato un buon punto d'appoggio un posto che posso chiamare casa e grazie al co-working posso lavorare lì ma ha sempre una finestra sul mondo la apro quando voglio e dico ma sono in connessione glocale quindi penso ragiono lavoro in modo globale ma voglio vivere e voglio avere un impatto in modo locale quindi pensare in modo globale agire in modo locale il co-working favorisce politiche per il lavoro e lo sviluppo economico questo immaginate chi veramente vorrebbe sappiamo che a Siracusa ci sono diversi progetti abbiamo fatto un convegno l'anno scorso con Città Insieme dove si pensava di aprire degli spazi di co-working a Ragusa qui il comune le istituzioni i privati tutti vorrebbero fare una sinergia per sviluppare luoghi di scambio perché anche diventano luoghi di ricerca e di sviluppo il co-working può trasformarsi in un piccolo distretto dell'innovazione e il co-working è congeniale alle piccole imprese che come sapete sono il tessuto economico italiano per lo più anche del meridione e del nostro contesto ci sono dei modelli già presenti come marchio forte in giro per l'Italia ci sono la rete di co-working Italia COWO Talent Garden Co-Up Co-Up Impact Hub addirittura a Palermo c'è il re Federico che è un bellissimo co-working che porta artisti e professionisti del digitale insieme a Milano hanno inventato un co-working co-baby co-baby vuol dire co-bambino cioè immaginiamoci tanti libri professionisti che ovviamente quando hanno un bambino non hanno la maternità come se sei se sei impiegato di un'azienda tu hai un bambino hai dei mesi di maternità se sei libero professionista non ce le hai queste cose e quindi magari ti devi portare il bambino appresso però che te lo porti in ufficio e quindi hanno inventato degli spazi di lavoro condivisi dove c'è la come si dice la la nursery si volevo trovare la parola italiana la bambina lì accanto che tengono cura e quindi ci sono tante mamme giovani o genitori giovani quindi non solo mamme mamme e papà che fanno un lavoro da libri professionisti che sono nomadi digitali che vanno in quel co-working specificatamente perché ci sono servizi per i bambini e poi lavorando insieme ad altri genitori giovani hanno la possibilità di avere più servizi per i bambini quindi diventa un modello intelligente di condivisione i spazi condivisi di solito possono avere questa fisionomia quindi non abbiamo la separazione dei cubicoli con le batterie dei polli che tutti lavorano davanti allo schermo ma sono spazi di solito ben arredati con piante luce naturale tutto quello che ognuno di noi merita quando lavora e soprattutto si parla molto alla modularità magari sono spazi che durante gli eventi togli tutti i tavoli si fa un evento e il giorno dopo torna ad essere ufficio quindi la flessibilità degli spazi di solito le storie le facce le fotografie di chi abita questa community sono presenti al muro quindi io vado lì anche se ci vado la prima volta nel co-working ed è vuoto perché ci vado alle 6 di pomeriggio di un venerdì sera vedo tutte le foto di tutte le persone che di solito sono qui a lavorare quindi ho un senso di comunità che mi viene trasmesso non solo lo spazio la scrivania la connessione internet non solo le cose base che posso trovare in un ufficio ma anche un senso di appartenenza a qualcosa di più grande io anni fa mi sono lanciato perché mio padre era architetto ha preso uno studio dove faceva riunioni di condominio e ho detto ma questo potrebbe diventare anche uno spazio interessante per fare progettazione partecipata progettazione europea e quindi abbiamo attrezzato questa sala che poi abbiamo fatto un processo di progettazione partecipata per la realizzazione e gli arredi di uno spazio di co-working che poi è diventato il tavolone con la lavagna con lo schermo per progettare questo si trova a Cicli si chiama Ciclab che è un po' la Cicla che è il nome antico di Cicli Ciclab è un laboratorio di progettazione quindi abbiamo provato anche in un contesto piccolo come Cicli a creare degli spazi del genere e poi vi parlo di Hub per concludere un po' questo intervento vi parlo di una storia che nasce nel 2010 è un progetto che usa dei finanziamenti trasfrontalieri tra Italia e Malta l'idea era quella di finanziare un progetto che portasse impatto innovazione e cambiamento sociale nel Mediterraneo era un progetto dove c'era Malta Lampedusa e Siracusa come i tre vertici di un triangolo che doveva essere il triangolo dell'innovazione sociale il valore che si produce all'interno di Impact Hub Hub che tra l'altro se facciamo un po' sapete che vuol dire Hub in inglese altra parola Hub vuol dire fulcro immaginatevi una bella ruota di carretto la bella ruota di carretto il fulcro che sta al centro dei raggi si chiama Hub fulcro ora il fulcro fulcro giustamente parlavo in modo non te si chiama fulcro però giustamente quello sono i punti ma i raggi partano dal centro o arrivano al centro domanda tutte e due ed è la stessa cosa che succede nell'Hub inteso come spazio di co-working la gente arriva la gente parta ma la gente torna Hub in termini informatici si parla di Hub informatico quando si parla del server ovvero le informazioni arrivano in un posto e poi ripartono oppure si parla tipo Francoforte l'Hub l'aeroporto Hub che i voli arrivano e poi ripartono come a Roma a Malpensa a Fiumicino sono Hub aeroportuali la stessa cosa intesa in ambito di co-working di scambio professionale parliamo di sostenibilità però parliamo di sostenibilità in tre ambiti non solo la sostenibilità economica che ci deve essere per avere un'indipendenza economica ma anche sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale in Inghilterra questo modello l'hanno teorizzato ma molti di voi lo sapranno come parolacce in inglese triple bottom line bottom line sarebbe la riga che mettiamo alla fine di un bilancio alla fine di un bilancio e poi diciamo ma stiamo guadagnando o stiamo perdendo soldi no? mettiamo alla fine delle addizioni e sottrazioni e diciamo stiamo guadagnando qua dice non guardiamo solo i numeri che sarebbe l'aspetto economico del profitto guardiamo anche l'aspetto ambientale legato al pianeta e l'aspetto sociale legato alle persone e dice che la vera sostenibilità non è nell'avere profitto economico non solo nell'avere un grande impatto sociale o ambientale ma avere una sinergia di questi tre fattori quindi l'unico impatto sostenibile deve essere indipendente economicamente deve avere un buon impatto sociale e un buon impatto ambientale cosa difficile da fare perché come tutti gli equilibri le tensioni progettuali sapete che il primo soprattutto sapeste quanto a me vengono da me mi chiedono puoi fare cioè questo da disegnatore industriale quando ancora mi occupavo di progettazione di prodotti mi puoi fare la stessa sedia però con meno materiale però farla più robusta però deve essere progettata e fatta in industria sì ci sono pochi ora questi problemi queste tensioni progettuali cioè riuscire a fare un coltello per il pane che taglia bene il pane però non può uccidere le persone è una tensione progettuale progettare una sedia con meno materiale che sia più robusta e resistente è una sfida progettuale io posso ingegnerizzare questa sfida progettare un ospedale con il 20% di taglio dei fondi economici e migliorare il servizio agli utenti sono sfide progettuali e per questo il design diventa come processo una cosa importante anche non solo nel progettare le sedie ma nel progettare la società e questo è lo spazio non so se parte sto video ogni volta qua siamo ecco questo è uno spazio proprio nel cuore di Ortigia immaginate questo spazio che prima di essere Impact Hub Siracusa era un convento era un convento è stato un convento per tanti anni poi è diventato istituto d'arte di Siracusa in centro Ortigia mia mamma ha studiato lì questa video ripresa che vedete è un po' datata perché adesso ovviamente è uno spazio in continua trasformazione dopo un anno sono cambiate tante cose anche all'interno però vi dà una buona idea di quello che è lo spazio poi è stato chiuso per tipo dieci anni il comune ha provato a farci uno spazio museale però non si capiva bene quale fosse la destinazione d'uso di questo spazio e poi nel 2009-2011 arriva Impact Hub con questa idea di creiamo un centro per l'innovazione e il supporto alle idee imprenditoriali nel cuore di Ortigia idea folle secondo alcuni però alcuni anni dopo questo spazio è vivo resiste e soprattutto genera innovazione produce connessioni di relazione abbiamo ospitato un evento con la Commissione Europea sull'integrazione dei migranti la scorsa due settimane fa e sono su 70 persone che c'erano in questo spazio al centro di Siracusa 20 erano italiane le altre 50 sono venute a spese proprie da tutto il resto d'Europa perché? perché c'era un evento sui migranti di innovazione sociale a Siracusa cosa che 5 anni fa non sarebbe stato possibile quindi se oggi è possibile internazionalizzare i saperi professionalizzare le professionalità locali e creare innovazioni anche alla periferia del sistema questo è grazie a un'attività di co-working che è nato come uno spazio vuoto questa è un'attività di co-progettazione cioè prima di arredare lo spazio ci siamo incontrati con la comunità e abbiamo detto ma voi che ci volete dentro questo spazio? e dentro questo spazio non c'era niente ancora quindi dice no io ho bisogno della macchinetta del caffè della luce così ho bisogno degli spazi per farmi le mie telefonate ho bisogno degli spazi per gli eventi ma ci voglio fare gli spettacoli teatrali ognuno ha detto la sua e poi sono stati creati diversi spazi la rete di Hub è una rete internazionale infatti Hub nasce come progetto a Londra nel 2005 e oggi ce ne sono 80 affiliati allo stesso marchio di Impact Hub e questo è Amsterdam Madrid Milano Londra vi risparmio la visione globale che è un po' il modello che accomuna tutti questi spazi ma come vedete c'è un progetto in crescita ci sono circa 80 spazi come quello di Siracusa che sono connessi online una specie di Facebook interno che si chiama Hubnet quindi non solo ci riuniamo a livello locale a Siracusa oppure quando vado a Roma io vado a Impact Hub Roma perché riconosco dei valori simili mi risparmio questa qua ci sono e allora in Italia ce ne sono sette il primo è aperto a Milano poi c'è stato quello di Roma Hub Siracusa Bari Firenze Trieste stanno aprendo a Torino e Reggio Emilia a Ragusa quello che significa è trovare un gruppo perché Impact Hub è un'iniziativa imprenditoriale nel senso siccome è un franchise sociale il marchio detenuto da un'organizzazione a Vienna quando una persona vuole aprire un Impact Hub immaginiamo ipotizziamo Impact Hub a Ragusa un gruppo di persone deve trovare un finanziamento iniziale per accedere alla rete deve creare una comunità di almeno 100 persone che siano professionisti canisciolti innovatori gente che vorrebbe popolare questo spazio ma soprattutto popolare con idee progetti questa rete di condivisione e poi richiedere al network centrale potrebbe essere deve essere presentato da un hub esistente ma in questo caso se c'è hub a Ragusa Impact Hub Siracusa ma c'è da chiedersi se il territorio è pronto anche ovviamente come esigenza di mercato perché poi il modello economico di Impact Hub si basa su porto delle persone che hanno delle idee di innovazione radicale creo una comunità di pratica di persone che scambiano e poi porto gli imprenditori tante volte noi ci dicono a Siracusa ma che state a fare co-working se non c'è il lavoro cioè non c'è il lavoro normale voi fate il co-lavoro quindi ci chiedono come però in realtà tutte le persone che vengono dentro hub perché poi hub viene visto come siamo al sud noi ci aspettiamo hub sta in uno spazio in cui si paga l'affitto al comune però siccome è uno spazio del comune tutti vengono lì come se fossimo i servizi sociali no? tipo ah mi fai l'impresa se vuoi ti scrivo il business plan sono 500 euro cioè perché sono attività di supporto però ragione in modo imprenditoriale quindi c'è stato un investimento iniziale di io non sono parte della cooperativa che gestisce hub sono dentro hub perché ci lavoro però c'è un investimento iniziale di non so 20.000 euro per il marchio per lo spazio e poi l'acquisizione dello spazio eccetera eccetera insomma mettere a sistema delle cose ma si fa con qualunque impresa uno non inizia la fabbrica di cassetti di plastica senza 100 lire di investimento è impattabile la stessa cosa l'investimento che bisogna fare qua non è solo quello economico nello spazio perché si possono identificare innumerevoli spazi abbandonati o non utilizzati qua a Ragusa il problema è capire ma ci sono gli imprenditori gli innovatori che andrebbero a lavorare in uno spazio del genere domanda a Siracusa non c'erano neanche quando è iniziato il progetto però la missione di Impact Hub a Siracusa è creare le condizioni abilitanti affinché giovani professionisti eccetera si trovino in questo spazio e non vadano in altri posti a fare quello che vorrebbero fare quindi è una sfida invece di fare un buco per terra aspettare che la marea arrivi e riempia la vasca bisogna andare col secchio prendere l'acqua e portarla dentro è una missione diversa perché ovviamente Impact Hub a Berlino o a San Francisco risponde a un'esigenza del mercato perché ci sono già tante persone che cercano spazi di lavoro a Siracusa e a Ragusa un po' meno però e soprattutto gestiamo persone che stanno in diversi momenti della vita ci sono persone che stanno in alto mare mi sono appena laureato che faccio? ho fatto 18 colloqui di lavoro ho mandato 100 curriculum nessuno mi ha risposto non ho il lavoro sono disoccupato da 3 anni alto mare e noi cerchiamo di orientare queste persone guarda ma che interessi hai ma perché non parli con questa persona perché non vai a fare questa esperienza qui poi arrivano arrivano delle persone che hanno un'idea ho un'idea voglio levare le ancore voglio partire ho un'idea la voglio trasformare in progetto ok ma lo sai come si progetta? lo sai come si scrive un piccolo bilancio come si scrive un progetto europeo come e poi lo vuoi fare da solo lo vuoi fare insieme ad altre persone e quindi diamo strumenti di progettazione poi ci sono persone che vogliono iniziare proprio con la start up ho un'idea imprenditoriale voglio fare ah ma l'hai fatta la ricerca di mercato ah ma lo sai se il tuo prodotto veramente funziona ma lo sai dove trovare i fornitori giusti e allora lì altri servizi per passare da idea a progetto e da progetto a impresa e poi ci sono aziende che sono già a velocità di crociera quindi stanno però improvvisamente il loro mercato di riferimento cambia tipo l'agricoltura è in crisi noi lavoriamo col consorzio del limone di Siracusa che si è dovuto innovare e hanno dovuto fare cosmetica perché con tutte le bucce del limone così hanno trovato una nicchia di mercato che rende di più della vendita del limone in ambito agricolo quindi si sono dovuti rinnovare perché il mercato è cambiato oppure nuovi orizzonti appunto abbiamo lavorato con un consorzio di aziende sul parco dell'Etna che hanno siglato un contratto di rete che è uno strumento legale che permette a diverse aziende di lavorare insieme ora di solito nella nostra cultura pensiamo se io sono albergatore l'altro albergatore è il mio concorrente invece che hanno fatto queste aziende sul parco dell'Etna alcuni erano albergatori altri ristoratori altro aveva il lido alla playa quindi non c'entra niente col parco hanno creato una sinergia di organizzazioni e abbiamo siglato questo contratto di rete dove loro si sono comprato ognuno ci ha messo un po' di tasca propria hanno comprato lo spazzaneve hanno fatto tutta una serie di cose che l'azienda singola non avrebbe mai potuto fare per controllare il territorio perché quando il turista viene si fa un'esperienza di qua anche se sono stato al B&B bello a Ragusa e quindi ho un'esperienza stupenda di quel B&B quando poi ho detto sì però per arrivare a Sambieri con i mezzi pubblici e poi sono arrivato all'aeroporto di Catania e mi hanno rubato i bagagli cioè il turista che se ne torna in Germania avrà un'esperienza negativa della Sicilia per quanto l'esperienza al B&B a Ragusa e Ibla sia stata positiva cioè l'esperienza è fatta di più cose niente tra l'altro Impact Hub è stato anche sportello di è qua quando dici il co-working non è solo co-working ma diventa anche sportello è stato sportello di informazione per il microcredito siciliano se è una piccola impresa ha bisogno di soldi ci sono ancora dei piccoli progetti dei piccoli finanziamenti alcuni che sono fino a 25.000 euro gli altri sono dei fondi Jeremy a livello europeo fino a 100.000 euro per lo start-up di impresa e quindi abbiamo avuto più di 6.000 contatti in un anno più di 1.500 espressioni di interesse e più di 50 pratiche presentate che poi si sono trasformate in finanziamenti di impresa ora ovviamente qua non siamo a Londra questi possono essere numeri piccoli per un territorio come Londra ma farlo a Siracusa vi assicuro e poi smazzarsi soprattutto i 6.000 contatti di gente che chiama no perché io mi devo fare l'autolavaggio ma per caso ha un impatto sociale il suo autolavaggio per caso utilizza prodotti biologici o ecologici o magari dà impiego a giovani disoccupati o integra l'utilizzo dei migranti no no io mi devo fare l'autolavaggio con mio cugino capito però questi sono finanziamenti dedicati a impresa che hanno un impatto sul territorio sul sociale quindi è la cosa triste che più della metà diciamo il 60% di questi contatti è gente che ha chiamato da tutta la Sicilia perché aveva dei debiti quindi volevano un finanziamento perché avevano dei debiti non per lo start up di impresa per la creazione di lavoro o di valore ma perché dovevano risolvere delle situazioni complicate a casa e che ci fotografa un po' dove siamo e chi siamo però vuol dire che c'è da lavorare vuol dire semplicemente che c'è da lavorare Impact Hub recentemente ha creato anche questo che è un lo chiamano bilancio sociale ovvero l'azienda che da un paio d'anni lavora ha creato questo bilancio sociale che è una specie di infografica dove dice cosa è successo dal 2010 al 2014 dove dice chi sono gli otto soci della cooperativa a Sicilia quali sono le risorse economiche da dove vengono dall'affitto degli spazi dei servizi erogati da chi viene e diventa membro di Impact Hub e paga la cosiddetta quota di associazione che non è la quota di associazione ma è la membership cioè una quota mensile come andare in palestra io vado in palestra ogni mese gli do qualcosa è uguale è uguale col co-working e soprattutto tutta una serie di progetti europei quindi la comunità lo spazio gli eventi i servizi e i progetti noi facciamo una serie di progetti con altri paesi da poco siamo tornati alla Macedonia per un progetto sull'imprenditorialità giovanile non vi sto a raccontare alle singole voci perché giustamente è tutto un bilancio sociale però quello che abbiamo cercato di tirar fuori in questo bilancio sociale non è solo l'impatto economico ma anche quante vite abbiamo cambiato quante persone hanno cominciato progetti sul territorio grazie all'esistenza di questo luogo quante persone hanno ricevuto finanziamenti che siano finanziamenti per bandi europei o finanziamenti sul territorio questo è l'impatto sociale le persone che cambiano la loro vita e grazie al loro lavoro cambiano il territorio e l'ultimo progetto e poi vi faccio un po' di domande perché spero che ci siano tante domande tante curiosità un po' di interazione è un progetto che Impact Hub Siracusa ha iniziato a Catania dato che Catania come ben sappiamo è una piazza diversa sia a livello industriale commerciale c'è l'aeroporto la gente gira mentre a Siracusa siamo un po' a mare l'innovazione a mare l'andiamo a trovare quindi c'è spazio per il turismo a Siracusa c'è spazio per l'integrazione dei migranti c'è spazio per l'interlocuzione con la pubblica amministrazione perché è più facile è più piccolo farlo a Catania è più complicato quindi insieme a un consorzio che si chiama Etna Hitech che si occupa di sviluppo software e tecnologie a Catania con diverse aziende è un consorzio di 16 aziende Impact Hub ha dato vita a Vulcanic che è un incubatore di innovazione digitale per il sociale quindi tutte quelle che sono app tutte quelle che sono siti web tutte quelle che sono nuove diavolerie tecnologiche a supporto del sociale sono al momento incubate in questo incubatore che si chiama Vulcanic io direi che su questa chiudiamo anche perché forse mi sono dilungato e lascio questa slide giusto per capire che la condivisione di idee come dice un nostro caro collega che poi una citazione dice quando voi arrivate con una mela e io arrivo con una mela e voi mi date la vostra mela sempre con una mela a casa torniamo invece se arrivo con un'idea e voi arrivate con la vostra idea ce ne andiamo a casa con due idee a testa quindi la condivisione dell'informazione la condivisione delle idee la condivisione del sapere è quello che fa muovere l'economia anche nei piccoli territori come quello di Ragusa grazie a tutti 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 grazie a tutti